Se ho ben capito, questo spazio agora è concepito come uno spazio di incontro in cui la statistica ufficiale incontra persone, come prima cosa, ma soprattutto incontra persone che rappresentano domanda di conoscenza nei confronti della statistica ufficiale. Stamattina c'è stato un incontro con il mondo del volontariato che naturalmente è portatore di istanze conoscitive, quantitative e quindi statistiche in passato ampiamente trascurate anche se in un passato più recente tenute in forte considerazione. Dopo di noi ci sarà un incontro con il mondo degli storici in particolare degli storici della statistica che naturalmente chiedono cose diverse. L'incontro di oggi è con due rappresentanti del mondo del movimento Open Data. Io non so se sono abbastanza informato dei fatti per poter spiegare che cos'è il movimento Open Data, lo lascio volentieri fare a loro. Per quello che è nelle mie conoscenze ci sono stati alcuni articoli fondamentalmente nel 2008 che hanno fortemente spinto questo e diciamo che il movimento Open Data nasce da una filosofia più ampia che è quella della rendere aperte e disponibile tutte le informazioni, e questo ormai ce lo consente la tecnologia, tutte le informazioni che hanno a che fare con il governo a tutti i livelli nazionale, regionale, locale e così via. Un modo di dare concretezza all'affermazione che l'amministrazione deve avvicinarsi ai cittadini uno per dare loro la possibilità di scegliere in un sistema democratico e due per dare la possibilità di giudicare i risultati, l'operato delle politiche. Questa affermazione che ha radici storiche molto profonde nella tradizione democratica e liberale ora hanno molti strumenti in più, la tecnologia consente questi strumenti in più, la domanda fondamentale è quella che l'informazione su questi aspetti e in particolare per quello che riguarda la statistica, i dati, l'informazione quantitativa siano resi disponibili in modo aperto e dal punto di vista tecnologico in modo aperto vuol dire anche secondo standard che consentano di catturare i dati alla loro origine e alla loro fonte. Osta contro questo una tradizione in realtà delle strutture organizzative che fanno parte delle amministrazioni e ahimè anche della statistica ufficiale come parte di queste strutture organizzative perché faccio riferimento ad alcuni temi che ha toccato anche Giovannini stamattina. Originariamente la statistica è un'attività estremamente costosa, questo è uno dei motivi per cui tradizionalmente nel mondo democratico la statistica è un pezzo di funzione pubblica, la stessa stregua della sanità, della cultura e così via. Una parte, questa giustificazione della centralizzazione della statistica è venuta meno anche e proprio per quel processo che Giovannini ha chiamato di commodification, di mercificazione ma non nel senso marxista ma nel senso del dato statistico. C'è però un altro aspetto e penso che questo sia un altro aspetto di cui discuteremo, l'informazione statistica come sta nella radice del nome statistica è uno strumento di governo e in quanto strumento di governo quantomeno in passato è stato strettamente associato e tenuto stretto dalle autorità di governo. Il bureau de statistique che Napoleone introdusse proprio nel 1801 era un bureau de statistique che lavorava per il primo console e poi per l'imperatore e i risultati delle rilevazioni statistiche, Napoleone fece il primo censimento in cui oltre alle informazioni demografiche si raccoglievano informazioni sulle caratteristiche della popolazione, ovviamente a fini militari, i risultati di quelle attività statistiche erano assolutamente segreti, cioè riservati a chi gestiva il potere. Ovviamente per fortuna in 200 anni la situazione è molto cambiata, è rimasta però, e penso che parleremo anche di questo, una seconda motivazione legata alla gelosia del dato statistico che è anche legata alla gelosia professionale dello statistico che spesso ritiene di essere il migliore interprete dei dati che produce. E perché il migliore interprete dei dati che produce? Perché avendoli prodotti e muovendosi in un contesto in cui oltre ai dati ci sono i metadati che sono ciò che consentono un'interpretazione corretta dai dati, ritiene, estremizzo naturalmente per farmi capire, che soltanto lo statistico ufficiale, il produttore dei dati, sia anche meglio titolato di chiunque altro l'interpretazione dei dati. Nel 2008 sono usciti un paio di articoli, io ho in mente Bright, ho in mente con gli altri tre nomi di cui mi dimentico sempre, che sostanzialmente dicono dateci i dati e noi faremo tutto il resto. E dateci i dati in un modo che sia standardizzato, machine readable e assolutamente aperto. Ecco, questo movimento ha suscitato molte discussioni ma ha anche conseguito molti successi. Parliamo di open government, parliamo di open data initiative, parliamo nel mondo anglosassone c'è un fortissimo movimento. La Banca Mondiale ha pienamente aderito recentemente, ha messo a disposizione un suo single exit point che rende possibile catturare i dati, gli aggregati, grezzi in forma standardizzata, aperta e machine readable. Noi ci stiamo muovendo nella stessa direzione anche se ancora non ci siamo arrivati, adesso sentiamo che cosa gli esponenti italiani di questo movimento, almeno due esponenti italiani di questo movimento, ne avevamo invitati anche altri che hanno declinato però l'invito, ci vogliono raccontare. Io direi che se non siete, se non avete deciso diversamente, per cavalleria darei prima la parola a Flavia Marzano. Intanto è un piacere perché questo è il tempio dei dati, quindi parlare di open data, la città va bene, la città dei dati. Un'altra cosa, se il nostro chair concorda, io credo che sarebbe più carino che ci fosse un'interazione anche con la platea, visto che come quasi sempre, ma qui più che mai, succede che in platea ci sono persone che hanno almeno altrettante competenze di quelle che sono da questa parte, io credo che sia così interessante e utile anche per noi e come spero possa esserlo per voi. Io rappresento qui DataGov, DataGov.it è il sito con cui abbiamo presentato questo che è il manifesto per l'open government. Come è nato? Mi piace partire da lontano in realtà perché nel 2004 quando si parlava di, stavamo definendo il codice dell'amministrazione digitale e io ero nel tavolo di lavoro che lo definiva il rappresentante diciamo tecnico del lupi in quel contesto e si è parlato a lungo, come lo sapete insomma il codice dell'amministrazione digitale informatizza e norma più o meno tutto ciò che è tecnologico nella pubblica amministrazione e in particolare nel campo del riuso, nella sezione 6 del riuso e gli articoli 68 e 69 in particolare parlavano già allora, abbiamo messo specificamente qualcosa che parlasse di standard aperti, di formati dei dati e parlavamo di questo proprio perché già di interoperabilità se ne parlava spesso ed era abbastanza ovvio che un ente dovesse comunicare con un altro ente visto che ancora nel piano di government del 2000 di Bassanini quindi dieci anni fa si diceva uno dei sogni di tutti i cittadini italiani cioè io nata a Savona, residente a Pisa, oggi lavoro a Roma come è nella mia vita, vorrei poter andare in un qualunque ufficio pubblico a chiedere un estratto di nascita cioè Savona o un, boh, chiedere la carta di la carta d'entità funziona in realtà, un documento di certificato di residenza cioè Pisa, nulla osta dal punto di vista tecnologico nel senso che le tecnologie ci sono, i database ormai dei miei dati e non solo ci sono già, già nel 2000 appunto nel piano di government, nelle premesse del piano di government si diceva perché no ma questo implica ovviamente che ci sia sotto una qualche standardizzazione se no le informazioni che sono in un ente o in un altro non riescono a comunicare, è solo un problema di prese e di spine oppure c'è altro sicuramente lo standard è condizio sine qua non nel senso che se non abbiamo lo standard non si riesce a lavorare però non ve lo non ve lo leggo tutto il manifesto lo potete trovare non solo trovare ma fra poco ci sta lavorando il grande Gigi Kogo che è il nostro nell'ambito dell'associazione il nostro webmaster ma è un blogger ben più noto non è solo un webmaster è un blogger famoso se cercate Gigi Kogo non avete difficoltà a trovarlo su google a giorni dovrebbe essere possibile anche l'adesione al manifesto è nato in realtà in maniera qui si parla tutti i manifesti parlano di 2.0 è esattamente così è nato nello stesso con le stesse modalità da un gruppo di persone più o meno amici e più o meno sono tecnologi da giuristi e non solo e ci sembrava che fosse importante metterla in atto questa cosa perché in realtà appunto dopo il codice di amministrazione digitale che è stato poi pubblicato nel 2005 il boom più grosso lo ha fatto Obama l'anno scorso quando all'inizio ha parlato di open data government appunto e quindi da lì ha avuto molta più risonanza di quanta non ne potesse avere avuto il nostro piccolo articolo del codice di amministrazione digitale peccato perché eravamo arrivati presto eravamo forse a volte innovare troppo alla svelta bisogna stare attenti a non farlo perché se il mondo non ci segue non serve a niente innovare ma comunque ci siamo tutti i concordi sul fatto che questa cosa invece dovesse essere fatta negli altri paesi lo hanno fatto le amministrazioni perché lo hanno fatto i governi l'ha fatto Obama come l'ha fatto il governo finlandese come l'ha fatto il governo inglese lo fanno giustamente a livello governativo nel nostro paese il ministro Brunetta esplicitamente sollecitato a giugno da Riccardo Luna che è il direttore di Wired ha detto lo faccio entro l'anno è vero che non ha detto entro quale anno ma insomma siamo a fine dicembre non lo ha fatto e allora ci siamo sentiti in dovere di dargli uno strumento oltretutto ci sono state parecchie altre urgenze insomma negli ultimi mesi quindi credo che avesse da pensare ad altro detto ciò ci siamo sentiti in dovere di farlo bottom up quindi abbiamo messo giù questo poi se lo volete trovare era quello che era presentato prima ma insomma sono dieci punti il manifesto per l'open government vi leggo soltanto i titoli governare con le persone governare con la rete creare un nuovo modello di trasparenza trattare l'informazione come infrastruttura liberare i dati pubblici questo se vogliamo il cuore per lo sviluppo economico del terzo millennio informare coinvolgere interagire per valorizzare l'intelligenza collettiva garantire la partecipazione promuovere l'accesso alla rete costruire la fiducia aumentare la credibilità della pubblica amministrazione promuovere l'innovazione permanente della pubblica amministrazione quindi fondamentalmente open data government questo è quello che prevediamo l'abbiamo pubblicato su un sito commentabile quindi aperto per questo era 2.0 il primo di novembre lasciando 15 giorni di tempo a chiunque volesse per suggerire commenti emendamenti variazioni aggiunte quant'altro in effetti abbiamo avuto tante tante proposte che praticamente tutte giustificate e sensate che significa che l'apertura della rete che spesso i nostri politici temono perché hanno paura che di ricevere commenti negativi in realtà non funziona così non c'è stato neanche un commento sbagliato neanche uno fuori tema neanche un un'offesa o quant'altro possa essere temuto dall'apertura di un sito fatto sta che appunto in 15 giorni abbiamo ricevuto decine e decine di mail ognuno di noi dai propri amici direttamente sul sito più i commenti e ci siamo presi un'altra quindicina di giorni per raccoglierle collezionarle e modificare di conseguenza il manifesto che quello che vedete qui invece è quello che è già percolato utilizzando le i risultati di questi di questi commenti che l'abbiamo presentato il 30 novembre quindi 15 giorni dopo all'internet governance forum che quest'anno di italiano che quest'anno era a Roma e quindi abbiamo cominciato ad aprire in realtà io ci sono ognuno ognuno di noi poi legge l'open data bloccami quando pensi che io debba fermarmi avvertimi un minuto prima se no vado avanti ad libitum comunque casomai io credo che sia più saggio appunto invece interagire e casomai ritornare su quindi io ok perfetto allora lancio un ultimo un ultimo messaggio e poi dopo casomai possiamo ritornarci su uno delle cose ognuno di noi ha visto nell'open data nell'apertura dei dati della pubblica amministrazione una faccia diversa e ovviamente dipende moltissimo da la propria competenza dal proprio interesse in che mondo sta lavorando mi piacerebbe che fosse valutato e ci fosse attenzione all'apertura in senso economico cioè quanto l'apertura dei dati possa davvero favorire lo sviluppo economico in un momento in cui di sviluppo economico purtroppo c'è un po' di stagnazione da anni in tutto il mondo in Italia non siamo da meno e quindi c'è bisogno di sviluppo allora come l'apertura dei dati e forse ve la faccio per ora come domanda poi se volete possiamo parlarne come l'open data può rinforzare lo sviluppo economico del paese e poi ne parliamo dopo grazie salve a tutti mi chiamo Alberto Cottica rappresento qui una piccola iniziativa che si chiama spaghetti open data e sono qui per fare essenzialmente una proposta agli statistici all'istat insomma alle persone che hanno interesse a questa cosa allora una battuta di background spaghetti open data nasce all'inizio di settembre di quest'anno c'è stato un aperitivo qui a Roma in cui si sono riunite un po' di persone con background misti alcuni erano bloggers o persone interessate all'ambiente della tecnologia altri invece erano funzionari pubblici dove i bloggers soffrivano un po' come diceva poi Flavio insomma l'invidia buona per data.gov di Obama per data.gov.uk quando è che c'è data.gov.it insomma sarebbe bello averla invece i funzionari pubblici sentivano, fiuttavano secondo me, ma qui ce n'è qualcuno magari possono dirlo loro fiuttavano l'opportunità di uno scambio con la società civile che usasse una metafora diversa quella cittadella assediata cioè di solito le amministrazioni sono sempre un po' spaventate dall'interazione troppo diretta con i cittadini mentre invece qui sembrava che si potessero fare delle belle cose collaborative insieme abbiamo deciso di fare un po' di lavoro volontario per creare un one stop shop per i dati aperti italiani e per le persone che fossero interessate gli open data non solo in teoria ma anche nella pratica della manipolazione dei dati stessi e quindi ci siamo dati un taglio molto operativo in cui abbiamo una discussione interna che però è finalizzata all'azione cioè il risultato prodotto. Spaghetti Open Data ha un front end che è un sito che si chiama Spaghetti Open Data è un repository di dati aperti realizzato con CMILE Exhibit che è una tecnologia a sua volta molto aperta è stato lanciato ai primi di novembre quasi in contemporanea con il manifesto dell'open government noi peraltro ci sentivamo, molte persone sono attive in entrambe le iniziative avevamo al lancio 34 basi dati che non è neanche male se pensate che Data.gov è partita con 47 quindi insomma noi ci stimavamo abbastanza adesso ne abbiamo 46 quindi siamo ancora una sotto al primo Data.gov poi c'è un back end che è una mailing list su Google Groups a cui a oggi mentre venivo in cui ho ricontrollato abbiamo 75 iscritti che ci sono scambiati 554 messaggi e siete tutti super benvenuti, tutti benvenuti questa cosa è fatta con lavoro volontario e hosting autofinanziato e non costa sostanzialmente niente a parte il nostro tempo che però regaliamo volentieri la proposta allora il movimento Open Data come ha detto molto bene Giovanni pensa tendenzialmente che il rilascio di dati pubblici in formato aperto sia una cosa buona in sé e ha anche detto un'altra cosa vera e cioè che le amministrazioni su questa roba hanno qualche volta qualche resistenza alcune di queste resistenze sono anche giuste perché, almeno all'interno del nostro gruppo questo è il consenso perché i dati sono spesso molto sporchi e difficili e costosi da ripulire quindi non è rendi disponibili i dati bisogna vedere cosa c'è lì dentro quindi l'operazione ha una sua radicalità in più c'è un problema di scarsa data literacy dell'opinione pubblica che non è un problema solo italiano peraltro come voi statistici sapete bene e quindi in effetti c'è un po' il problema delle bugie maledette bugie statistiche dopo rischiamo che gli Open Data siano la quarta categoria che è ancora più maledetta delle statistiche quindi bisogna un po' governare questa roba qui la proposta sarebbe quella di collaborare con il pezzo di società civile che di questa cosa si occupa alla creazione di un ecosistema della discussione razionale allargata discussione razionale allargata cioè la verità è nel dibattito nel dibattito non di pancia ma di testa e ampio di questo ecosistema i dati sono naturalmente il carburante però l'obiettivo non sono i dati è il dibattito e quindi insomma la ricerca mai conclusa della verità la cosa che mi immagino è un ambiente che abbia il rilascio dei dati però anche contest per storie basate sui dati tools di visualizzazione un po' di ricerca universitaria possiamo immaginarci tante cose e in questo ecosistema che ci stiamo un po' immaginando Istat potrebbe avere veramente un ruolo chiave anzi non si vede quale altro soggetto potrebbe averlo alcune piccole cose o piccole grandi cose che si potrebbero fare fin da subito sono uno un impegno sulla ripulitura e il consolidamento di dati pubblici che già l'Istat pubblica fini statistici cioè una volta che il dato è ripulito anche l'amministrazione se ne avvantaggia anche per fini interni però è una roba che non si fa mai perché diceva un mio amico è la priorità meno uno perché presi da tante cose gli amministratori spesso non riescono a fare l'investimento per mettersi lì e ripulirsi tutte le basi dati due pubblicare i micro dati i micro dati in formato aperto e gratuito mi si dice che alcuni micro dati sono già scaricabili ma a pagamento questa è una cosa che sinceramente insomma il movimento internazionale open data non capisce non approva cioè li abbiamo già pagati quei dati lì insomma se sono in ordine metteteli fuori e basta insomma la terza cosa che l'Istat potrebbe intestarsi è la guida di una riflessione nuova sul segreto statistico in particolare in mailing list si parlava di alcune rilevazioni che fate e penso a quella sui comuni sui dati di spesa dei comuni che riguardano dati pubblici ma sono coperti da segreto statistico e il risultato di questa roba è che tu non puoi avere i dati comune per comune che a me non mi torna molto voglio dire il segreto statistico lo capisco più da ignorante io ho studiato un po' di statistica perché sono un economista di statistiche di econometria però non sono un professionista della statistica però io capisco il segreto statistico per gli individui molto meno per gli enti pubblici quindi si potrebbe fare un ragionamento guidato da voi su questa cosa per capire quali di queste informazioni vanno effettivamente mantenute confidenziali e per quali la confidenzialità è un retaggio è una legacy e potremmo anche farne a meno questo purtroppo ci costringe a toccare un tema un po' controverso che è quello lo dico sì lo dico mi hanno detto di dirlo quindi lo dico di Wikileaks e affini ne abbiamo parlato molto all'interno della nostra mailing list perché siamo convinti che questa questa partita di Wikileaks potrebbe essere una roba che danneggia molto il movimento pendata perché scatta il panico e insomma l'immagine dell'hacker cattivo che cerca di farti del male e il consenso all'interno del nostro gruppo è che l'attuale panorama tecnologico e sociale produce Wikileaks bisogna rassegnarsi e stare tranquilli l'unica cosa che si può fare da questo lato è quello di giocarsi una trasparenza gestita anziché una trasparenza subita cioè di ingaggiare l'opinione pubblica rilasciando dei dati dando una mano fornendo una prima interpretazione che poi può essere oggetto di discussione però intanto è lì ed è visibile questa cosa potrebbe essere un po' la mossa del cavallo per non dover rincorrere la trasparenza subita dei vari cable gate eccetera eccetera di nuovo l'esperienza dell'Istat nel rilascio dei dati potrebbe essere molto utile alle amministrazioni che sono sedute su questa pila di basi dati e l'ultimo punto che è molto caro ad alcuni di noi è quello di assumere un ruolo costruttivo nella costruzione di questo ecosistema cioè noi siamo assolutamente esterni nelle amministrazioni però non ci sentiamo nemici assolutamente un esempio di atteggiamento costruttivo è si ritrova nell'uso di queste stelline della riusabilità che è una una classificazione che Tim Berners-Lee ha proposto per dire che i dati non sono aperti o chiusi in modo binario ma ci sono i dati più aperti e più chiusi e questa cosa qui chiaramente è una è una sciocchezza è una mossa retorica però è una mossa retorica che ha il vantaggio di non fare i promossi e i bocciati di dire tu che hai pubblicato il pdf beh insomma bravo grazie però si può fare meglio se tu fai il csv prendi tre stelline anziché una e allora chissà magari questo gioco è un gioco che può piacere ad alcuni direi che mi posso fermare qui questa era la proposta sarei curioso di capire da voi dalla platea anche cosa osta e cosa può succedere parto per chi mi conosce con due battute la prima è ma tu sei di Modena la seconda è Wikileaks ci fa un baffo noi ci avevamo già da cospia bravo stavo perdendo adesso le cose serie prima cerco di rispondere all'ultimo stimolo di Flavia io prima ho detto che almeno per quello che riguarda la statistica il movimento è partito in qualche modo nel 2008 con Bright però in realtà un grande almeno per me un grande e anche per la comunità scientifica Stiglitz quando gli fu chiesto di scrivere un articolo per un intervento per l'UNDP disse che la statistica era un bene pubblico puro e lo motivò nel modo tradizionale ma poi disse un'altra cosa secondo me molto importante che sta nel mio DNA quantomeno e cioè disse che dal punto di vista economico il fatto che la statistica sia un bene pubblico è una forma di correzione delle asimmetrie informative le grandi imprese possono prodursi informazione quantitativa i piccoli player sul mercato non se lo possono produrre qui interviene il ruolo pubblico della statistica rendendo bene o male perché qualche volta anche male disponibile per tutti le informazioni che consentono una concorrenza meno asimmetrica sui temi sollevati da Alberto io ho avuto una fortuna beh non è stata proprio una fortuna nel senso che mi ci ha mandato l'Istaz sono andato a questo Wolfram Data Summit a settembre a Washington a presentare diciamo così le prospettive italiane e ho sollevato tre temi di cui almeno due sono collegati a quelli che hai sollevato tu il primo è quello dei il primo è quello dei microdati dico subito per tranquillità di tutti che ieri è uscita la seconda ondata diciamo così di popolamento del nostro corporate data warehouse ed è nei programmi quindi formazione ce n'è non è immediatamente machine readable ma nei nostri programmi immediati cioè a brevissimo termine c'è quello di creare il single entry point exit point dal nostro punto di vista sul data warehouse dell'istituto il che vuol dire che microdati più ricchi di quelli attuali con il corredo di metadati su cui poi tornerò perché la cosa è abbastanza importante quando diciamo puliti sporchi eccetera eccetera saranno più facilmente disponibili macrodati di dettaglio ma pur sempre macrodati il problema dei microdati il problema dei microdati non è facile sono però pienamente d'accordo sul fatto che e l'ho detto a una precedente conferenza non mi ricordo se 4 o 6 anni fa in quel momento lo dicevo agli utilizzatori del mondo accademico ma vale ancora di più e più fortemente per noi utilizzatori cittadini diciamo il problema non è l'istat contro gli utilizzatori il problema è di fare fronte comune contro tra virgolette il garante della privacy perché l'interpretazione che pure è variabile di che cosa sia statistical disclosure che cosa sia violazione del segreto statistico in realtà merita diciamo così uno di fare capire meglio di che cosa stiamo parlando e due di fare capire che anche in questo caso non stiamo parlando di bianco e nero ma stiamo parlando di diversi livelli una prima distinzione è tra i dati personali riferiti alla persona fisica singola o lo famiglia e i dati riferiti alle imprese qui giocano alcune cose se volete tecniche ma che si nascondono diciamo così possono essere riassunte in un punto in realtà molto semplice la distribuzione degli individui e la distribuzione delle famiglie è sostanzialmente una distribuzione normale e perciò il rischio di violazione del segreto statistico è relativamente basso quando parliamo di aggregati basterebbe forse la famosa regola del 3 quando parliamo di imprese siamo di fronte a una distribuzione statistica che non è normale ci sono le code e il rischio di individuazione quindi di violazione del segreto statistico è molto alto la seconda battaglia secondo me da combattere col garante se vogliamo è quello che il concetto di violazione del segreto statistico non può essere una cosa data una volta per tutte io posso capire che per un'impresa siano riservate le informazioni sull'oggi le informazioni di carattere congiunturale per esprimersi nel linguaggio degli statistici non riesco a capire quale sia il problema dal momento che per produrre per esempio informazioni strutturali sulle imprese non soltanto noi ma il regolamento europeo ci dice 18 mesi dopo la chiusura dell'anno di bilancio che rischio che cosa gliene possa fregare diciamo a qualunque impresa che vengano resi pubblici dati che rispecchiano nella sua situazione patrimoniale di controprofitti e perdite e così via di struttura della produzione di 18 mesi in precedenza questo forse dovremmo insieme farlo capire tanto più che gran parte dell'informazione dell'impresa non è informazione riservata non stiamo parlando della formula della Coca Cola è informazione pubblica di più è informazione che l'impresa usa per farsi conoscere dai suoi clienti e dai suoi forditori dal mondo dell'economia no mi fermo qui c'è una seconda cosa che poi vorrei dire ma non voglio rubare io perché ho il potere del microfono e di essere l'ospite spazio alle altre persone quindi a questo punto chiederei come già sollecitato d'Alberto se qualcuno in platea per così dire diciamo qualcuno di voi vuole fare qualche intervento allora sono Tito Bianchi del Ministero dello Sviluppo Economico io sono parte di questa iniziativa di spaghetti open data eccetera dall'interno dell'amministrazione tra i dipendenti pubblici interessati al tema della disclosure dei dati anche per il lavoro che faccio io diciamo ci tenevo a sottolineare l'importanza dell'aspetto legale su questa tematica perché il problema è dal mio punto di vista legato al fatto che noi molti di noi sono io sono economista ci sono molti statistici economisti in questo gruppo e tutti noi diciamo non ne capiamo niente fondamentalmente però i dipendenti pubblici quelli che sono in possesso dei dati perché qui il problema gli open data non si pone tanto per i dati istat diciamo abbiamo a che fare con un soggetto evoluto che maneggia dati di professione diciamo il tema degli open dati vero si pone per tutti quei dati amministrativi interessantissimi che le amministrazioni raccorgono magari per altre finalità e non c'è un vero motivo per cui non vengono diffusi e ciò nonostante non vengono diffusi ci sono sterminate basi dati di grande interesse e lì il problema è che ci sono ci sono due ordini di problemi uno è culturale sul fatto che le amministrazioni sono molto consapevoli dei rischi di pubblicare i dati e spesso per nulla consapevoli dei vantaggi diciamo del tema dei beni pubblici che solleva il presidente della commissione ma l'altra parte invece di cui noi non capiamo nulla la parte diciamo dei vantaggi è una manovra culturale che stiamo tutti cercando di fare e diciamo e spiegare il valore di bene pubblico delle statistiche che non è chiaro a tutti ma l'altra parte forse più importante di cui noi non siamo in grado di fare degli avanzamenti importanti è quella del diritto nel senso che molti dipendenti pubblici operatori intuiscono a un certo livello l'importanza il valore che sarebbe rappresentato dalla diffusione di certi dati però non diciamo anche magari trovandosi in una situazione di dubbio nel dubbio non rischiano però non hanno una base legale su cui giustificare la loro attività e circolano nel mondo dell'amministrazione pubblica delle nozioni giuridiche secondo me anche sbagliate è un tema complicato perché diciamo si capisce che è una materia che la legge non una materia nuova che la legge non regola in tutte le sue casistiche che sono molto nuove però diciamo se avessimo a disposizione uno strumento normativo che tutela e anzi spiega esattamente all'amministrazione che certi dati sono pubblici salvo alcuni casi speciali questo sarebbe dal mio punto di vista quello che ho capito io come ragione una serie di dipendenti funzionari dirigenti pubblici sarebbe un po' il grimaldello di questa operazione però non credo che si potrebbe non credo che sia sufficiente il manifesto perché è una natura pur essendo una cosa utile è una natura abilitante ma non non ha una natura giuridica invece sarebbe importante poter disporre di una legge che però non parla genericamente di trasparenza e di diffusione di dati perché questi sono slogan che circolano ormai da tanti anni e non determinano nessun fare invece dovrebbe dire qualcosa di più specifico su quali dati sono già pubblici e quindi sono accessibili a tutti in un certo senso esprimersi come una cosa che esiste già e dire quali sono le casistiche limitate in cui vige il principio della riservatezza e andandole poi a scovare le esigenze di riservatezza sono molto molto ma molto meno di quelle che ci aspettiamo per quello che io riesco a capire in parte ovviamente condivido volevo solo allora leggerlo l'articolo 5 che forse è quello che mette insieme i concetti che sono stati detti che il titolo è liberare i dati pubblici per lo sviluppo economico del terzo millennio le pubbliche amministrazioni devono considerare una priorità la raccolta è vero che non ha valenza normativa so far nel senso che nel momento in cui ci fossero 3.000 comuni 50 province 15 regioni che ce lo firmano e lo adottano anche se non ha valenza normativa e sono contenta lo stesso diciamo una priorità la raccolta gestione distribuzione di dati grezzi e disaggregati non sensibili ovviamente favorendo così anche l'iniziativa privata per lo sviluppo di applicazioni e di interfacce per la rielaborazione consultazione fruizione e pubblicazione un orientamento della pubblica amministrazione verso l'open data offre nuove opportunità a chi investe nella rete incentivando la crescita dei distretti dell'economia immateriale che rappresenterebbero un nuovo modello di produzione da affiancare a quello tradizionale e qui viene il concetto che citava anche Alberto prima degli ecosistemi sugli ecosistemi ne ho parlato a Senigallia seppur in remoto perché non ho potuto andare alla conferenza l'ecosistema è in questo concetto è più che mai lo condivido fortemente è essenziale perché in questo ecosistema ci sono non moltissimi attori poi ci sono sicuramente chi produce dati la pubblica amministrazione le università e i centri di ricerca che possono fornire strumenti per elaborarli l'istat perché no in maniera sensata ma le imprese che sono a loro volta se vogliamo fruitori e poi rimbalzano perché da una parte le fruiscono nuovi dati fornendo però nuovi prodotti nuove soluzioni perché hanno avrebbero uno stimolo a produrre ulteriori risultati che generano questa attività di in movimento in realtà la cosa che mi diverte molto è che appunto sul discorso di Wikileaks avevo la stessa idea che appunto noi ci abbiamo da gospia ma io temo che il problema della privacy invece sia un problema serio che dicevi Giovanni cioè va sicuramente nessuno di noi ha interesse a dire no i dati sensibili non ci interessano più la privacy non ci piace ci sta benissimo che ci sia la privacy a volte viene usata come scudo soprattutto dalla pubblica amministrazione immaginatevi ormai praticamente tutte le pubbliche amministrazioni locali pubblicano le loro delibere online nel senso fanno delibere e le pubblicano quando va bene sono dei pdf quando va male sono delle cose scannerizzate perché c'è il film a timbro e quant'altro allora se io volessi sapere del mio comune quante delibere sono state fatte con dentro la parola scuola me li devo andare a leggere tutte se poi voglio andare a cercare quelle che hanno la parola scuola elementare e che ne so che abbiano anche un investimento su me le devo riandare a guardare tutte questi non sono dati aperti per carità è sicuramente meglio che niente la delibera online che la non delibera online però non è un dato aperto il dato è aperto quando ci sono i micro dati ma anche i metadati su questo sono totalmente d'accordo che sui metadati c'è da lavorarci non poco ma diventano aperti quando sono fruibili quando sono snocciolati non è la delibera in sé che mi dà risultato non so cosa farmene o meglio so cosa farmene se c'è uno stuolo di schiavi che metto lì a scannerizzare a scannerizzare con la testa non con uno scanner con il cervello e gli occhi aperti alla ricerca delle singole parole chiave quindi diventa veramente impossibile io credo questa cosa non c'è nessun altro che vuole intervenire io non ho ne approfitto per dare per dire due cose molto rapide la prima è per dare una risposta al problema del prezzo delle raccolte di micro dati sostanzialmente però volevo dirvi che purtroppo perché io stavo cominciando adesso a scaldarmi alle 15 c'è un'altra agora quindi possiamo rubargli forse 5 minuti ma poi i poveri storici hanno diritto come noi a discutere tra di loro però in questa conferenza c'è anche lo stat camp quindi questo vuol dire che se vogliamo continuare a discutere di questi temi abbiamo la possibilità di utilizzare altri spazi in cui tra l'altro già ci sono temi molto vicini a questo io non prometto di esserci sempre perché sono impegnato su un numero molto elevato di fronte in questi giorni ma molto volentieri ci sentiremo questo era importante dirlo perché la discussione se vogliamo non finisce qui io sto lavorando per togliere quella piccola barriera perché non è in realtà altissima per un'istituzione nel senso che i file standard dell'istat costano mi pare 190 euro però è un problema per il ricercatore per il privato cittadino stiamo lavorando su questo per renderli gratuiti come già da dieci anni tutto il resto dell'informazione sul sito dell'istat è gratuito il nostro ufficio legale ha qualche piccola obiezione che io però sono molto fiducioso che riusciremo a superare non voglio essere io ad avere l'ultima parola quindi consentirei ad Alberto e a Flavio l'ultimo giro no io forse mi fermerei qui diciamo che io adesso incrocio un po' in zona stat camp se qualcuno vuole fare una chiacchiera fuori microfono rinnova tutti l'invito alla discussione tra l'altro è molto comodo questa roba qui la gente di internet ha questo vantaggio che discutere facile asincro uno si scrive una mailing list ci va quando vuole cioè un impegno molto gestibile riusciamo a gestire le conversazioni abbastanza ricche anche veramente in modo molto naturale quindi tutti benvenuti c'è bisogno di geeks c'è di gente con delle competenze hardcore tecniche per fare per costruire il futuro c'è bisogno di statistici molto perché altrimenti non riusciamo a interpretare l'evidenza le cose che ci stanno attorno quello che voi avete è uno strumento non l'unico ma è uno strumento importante quindi mi piacerebbe molto vedere più commistione tra la cultura tecnico-statistica quella tecnico-informatica e quella diciamo della politica della discussione del dibattito pubblico allargato Spaghetti Open Data forse è più interessante per questo cioè per il back end della mailing list che non per il sito vabbè ci sono i dati man mano che arrivano ce li mettiamo però quella è veramente una roba da poco sì ovviamente su questo forse Alberto dovremmo fare un discorso noi in realtà insieme perché anche sul sito data.gov.it ci sono tutti i dati che sono presenti poi c'è quello che ha fatto il Piemonte che è dati.piemonte.it quindi forse ci vorrebbe un cappello superiore magari perché no listat io sarei ben felice o se lo volesse fare invece di GPA va bene lo stesso purché forse serve un cappello nazionale a livello governativo io vorrei concludere solo con quello che diceva tra gli obiettivi di Lisbona quindi anche lì non poco tempo fa fare l'Europa the most competitive knowledge based economy io direi che liberare i dati per liberare la conoscenza e arriviamo agli obiettivi di Lisbona ho detto che non avrei avuto l'ultima parola ma la prendo per chiedere una cosa cioè per chiedere anch'io a voi una cosa aiutateci a fare meglio noi abbiamo bisogno della domanda e della domanda argomentata dagli utenti per cambiare il nostro modo di restituire informazione statistica quindi chiedo anch'io a voi di prendere contatto con noi io penso che ci sia anche una occasione importante che è quella della Costituzione del Consiglio Nazionale degli Utenti e penso che e me ne farò portatore che anche la comunità e il movimento diciamo così di Web 2.0 di Open Data eccetera eccetera abbia una sua possibilità di far sentire la sua voce in questo Consiglio Nazionale degli Utenti grazie 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 Grazie.